Sono in calo i casi di truffe e raggiro agli anziani nel territorio comunale di Sulmona. La campagna di sensibilizzazione e informazione comincia a sortire i primi effetti positivi e quanto trapera dalla caserma di via Sallustio dove i carabinieri, coordinati da Comarescello Capo Luigi Lucente, non abbassano la guardia e invitano anziani e cittadini a fare altrettanto. Stando a quanto riferito dai militari, nelle ultime due settimane i malviventi non avrebbero messo a segno alcun colpo, a differenza di quando accaduto tra fine settembre e prima metà di ottobre, quando una serie di anziani sono caduti nella trappola dei finti avvocati che chiedono soldi per telefono. È successa una donna che si è vista portare via circa 4.000 euro. Stessa sorte è toccata un anziano signore di via Papagiovanni XXIII, 3.000 euro, la somma rubata. Nonostante il quadro sia più rassicurante, i carabinieri non cessano l'attività di informazione, lasciando le solite e premurose raccomandazioni. Non consegnare mai somme di denaro a coloro che lo chiedono per telefono, né avvocati né carabinieri lo fanno. Chiamare il numero di emergenza 112 dal telefono cellulare, dal momento che i malviventi sono in grado di bloccare anche l'utenza telefonica fissa. Per i più coraggiosi l'invito è quello di stare al gioco per favorire l'arresto dei ladri in flagranza di reato.